Il turismo sostenibile si sta affermando sempre più a livello mondiale come trend pronto a rivoluzionare il settore. Secondo quanto svelato da un report di Coherent Marketing Insights, il mercato globale raggiungerà nel corso del 2024 un valore pari a oltre 2 miliardi di dollari e si stima che, entro il 2031, arriverà a toccare quasi 9 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuale del 19%. L'adozione dei principi ESG nel settore turistico non è solo una tendenza, ma un passo fondamentale per garantire che il fascino delle destinazioni turistiche rimanga intatto e non vada a scapito del pianeta e delle sue comunità. La domanda del mercato del turismo sostenibile è guidata principalmente da un mix di crescente coscienza ambientale, desiderio da parte dei turisti di fare esperienze di viaggio sostenibili e politiche governative di sostegno. I viaggiatori, infatti, sono diventati più consapevoli del loro impatto ambientale e cercano attivamente alternative e metodi viaggio ecologiche che favoriscano la conservazione e il rafforzamento delle comunità. Due su tre sono disposti a pagare un extra pur di scegliere un'opzione di viaggio sostenibile. Questo cambiamento nel comportamento si manifesta quando sempre più persone decidono di scegliere esperienze autentiche che li legano alla natura e alle tradizioni locali. Inoltre, anche gli sforzi e le politiche pubbliche volti a incoraggiare pratiche turistiche e ecologiche e a preservare il patrimonio naturale e culturale contribuiscono a rafforzare la crescita. Infine, i benefici economici legati al settore, come la creazione di opportunità e posti di lavoro e di progetti di sviluppo delle comunità locali, attraggono anche i turisti che desiderano restituire positivamente, contribuendo al benessere dei luoghi e delle comunità che visitano.